Confermata nei suoi pilastri principali in audizione presso le commissioni di Camera e Senato dove inizia l'iter parlamentare, il Ministro dell'Economia a Tria difende la manovra di circa 37 miliardi di euro. Il Governo si impegna a non superare il limite del deficit al 2,4% in risposta alle stime presentate ieri da Bruxelles con un deficit vicino al 3%. Per un deficit massimo del 2,4% nel 2019 e il Governo è quindi impegnato evidentemente a rispettare questo limite. Il titolare del Dicastero di via 20 settembre conferma il taglio della pressione fiscale circa 13 miliardi nel 2019 mentre viene certificato l'ulteriore rallentamento della crescita nel 2018 motivo per cui, aggiunge Tria, è necessaria una manovra espansiva con riforma della legge Fornero per ridurre la disoccupazione giovanile, investimenti pubblici e reddito di cittadinanza. E di reddito di cittadinanza che farà parte di un decreto specifico torna a parlare di Maio di fronte alla stampa internazionale per spiegarne le ragioni e gli effetti positivi sull'economia. Il leader pentastellato si dichiara soddisfatto anche dell'accordo sulla prescrizione siglato ieri con la Lega sebbene il provvedimento che entra nel disegno di legge anticorruzione slitti di un anno a fine dicembre 2019. Ma io chiedo anche un attimo, una moratoria alla stampa italiana su questa partita continua di calcio tra Lega e Movimento 5 Stelle ci facciano le pulci sui provvedimenti, non su chi ha vinto e chi ha perso.